Perché hanno una grandissima organizzazione in fase difensiva, perché hanno entusiasmo, sono giovani e attaccano la profondità con i tempi giusti e con gente di gamba. Giochiamo in casa nostra, loro sono belli, sereni, fiduciosi e con entusiasmo, non hanno niente da perdere da questa gara, si possono permettere anche con serenità di aspettarci per poterci far male, quindi è un avversario da prendere veramente con le molle, soprattutto senza avere la frenesia e la fretta di voler per forza nei primi minuti o nella prima frazione rischiare l'osso del collo per vincere la partita, perché altrimenti in contropiede ci possono fare veramente male. Vediamo in mezzo al campo chi potrò utilizzare, ci sono De Feo, Di Scorradi, Demba e Rossetti, mi dispiace che Niccolò sia stato purtroppo colui che ha perso la palla nell'occasione del gol ad Alessandria, perché aveva fatto anche una buona partita, ci aveva dato fisicità, aveva fatto in maniera egregia ciò che gli avevo chiesto, però è chiaro che in una partita del genere servono giocatori che abbiano l'equilibrio, la testa e le qualità giuste per poter dare ordine e poter dare anche tranquillità ai propri compagni, quindi non ho ancora deciso, adesso dobbiamo fare la rifinitura, però l'orientamento è quello di dare solidità alla squadra.